E' stato ricoverato nella notte per un sospetto caso di meningite, il 19enne di Casarano tenuto sotto osservazione nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Galatina. Non è in gravi condizioni né in pericolo di vita, tanto che non è stato al momento disposto il trasferimento in un altro nosocomio per la rianimazione. Tuttavia si sono messe in moto le procedure specifiche con i prelievi del liquido cefalico da inviare a Bari per essere esaminato. Abbiamo trasmesso il report al direttore sanitario dell'Asla, Antonio Sanguedolce, ma non c'è nessun allarme, precisa il dottore Paolo Tundo, direttore dell'unità operativa del Santa Caterina Novella. Si attende conferma dalle analisi, visto che il liquido del giovane sarebbe apparso non perfettamente trasparente, come dovrebbe essere. Si va con i piedi di piombo dopo il decesso il 14 aprile scorso della 19enne di Corigliano d'Otranto, colpita da una meningite fulminante, l'1 aprile ricoverata il 3 aprile in condizioni disperate nell'ospedale di Scorrano e poi nella rianimazione del Vito Fazzi di Lecce, dove è spirata. Nessuna sottovalutazione, ma comunque prudenza. Nel 2014 tra i 121 casi in Italia, 6 si sono verificati in Puglia. Nelle leccese sono sporadici, ma la meningite evolve peggiore in poco tempo. Ecco perché la prevenzione resta importante. La vaccinazione contro il meningococco B è iniziata nell'Asla di Lecce nell'ottobre scorso. La copertura per la prima dose è ferma al 69,5%, a fronte comunque di una media regionale del 40%. La vaccinazione contro il meningococco C invece è iniziata in Puglia nel 2006 ed è effettuata nell'Eccese sul 72% dei bambini sotto i due anni. Tutti i vaccini sono gratuiti per bimbi e adolescenti.